Ho messo in evidenza un aspetto, oggi sono in sciopero, oltre 150 dipendenti dell'azienda ATR di Colonnello hanno indetto questo sciopero poiché ci sono una serie di criticità e difficoltà all'interno di quell'azienda. Lo sciopero si ripeterà anche venerdì prossimo e ci sarà in mattinata una conferenza stampa con i lavoratori, con i sindacati e ci auguriamo anche con i rappresentanti di questa giunta regionale. Abbiamo tre componenti, la maggioranza della Val Vibrata e ci auguriamo un loro impegno affinché stiano sempre di più vicini ai lavoratori e soprattutto a quelli che soffrono e che stanno perdendo il lavoro. Nel frattempo si è aperta anche un'altra vertenza alla gamma di Ancarano. E poi abbiamo avuto la risposta assolutamente inaccettabile da parte dell'assessore Fioretti circa il futuro della casa di riposo di Sant'Omero. Da mesi stiamo chiedendo le possibili soluzioni per la casa di riposo. Oggi purtroppo non abbiamo avuto alcuna risposta, alcun impegno da parte del governatore Marsilio che ha tenuto un comizio qualche mese fa proprio davanti a quella casa di riposo, ingannando gli operatori, gli ospiti, le famiglie, il comune, la comunità di Sant'Omero e di tutta la Val Vibrata. Non abbiamo registrato oggi nessun impegno da parte della Giunta circa il futuro di questa casa di riposo. Purtroppo ad un anno dell'insediamento della Giunta Marsilio questo è uno dei primi grandi risultati, la probabile chiusura della casa di riposo di Sant'Omero.